Ciao, sono Samuele e nel video di oggi ti voglio mostrare 5 prodotti con un estremo potenziale da vendere oggi sul tuo store dropshipping. Di tutti gli store ti faccio vedere il fornitore, il competitor, le ads che sono attive, il trend che sta subendo in questo momento, così che puoi avere tutti i dati che ti servono per capire e per convalidare effettivamente quel determinato prodotto. Quindi ho preparato tutto qua sul mio pc, adesso ci spostiamo subito. Prima di tutto ciò ti mostro il commento che vince la mia guida delle top nicchie di questo momento. Quindi se mi iscrivi su Instagram te la vado a mandare. Qui sotto vi lascio il regolamento e qua sotto in descrizione trovate la mia checklist per partire con il vostro store, tutti i link utili e anche Dropshipping Keys 2.0 che è il mio corso completo per partire con il tuo store dropshipping. Il primo prodotto che ti faccio vedere è questo set di pennarelli che tu potresti dirmi è qualcosa di troppo semplice, in realtà ci sono dei motivi per cui te lo faccio vedere. Il primissimo di questi motivi è che non è un pennarello normale, non è un set normale, ma sono dei pennarelli che colorano d'argento, come vedi fanno questo pattern interno, e poi però il contorno che lasciano è del colore appunto del determinato pennarello. Come già ti dicevo in alcuni video precedenti, ovviamente la nicchia fai da te, la nicchia hobby, do it yourself, sono delle nicchie o una nicchia generale che ha avuto molte attenzioni nel periodo scorsi, dovuto nuovamente al fatto di covid, lockdown, la gente sta a casa, passa più tempo a casa e quindi cerca delle cose da fare. Questo set l'ho trovato su Facebook, ora tra poco ti faccio vedere tutto quanto, ed è indirizzato più a un pubblico di bambini, di ragazzi, quindi qualcosa della nicchia che si collega a baby care, children e giocattoli. Però ecco per tutto quello che è riferito anche a arte, dipinti, quindi painting, paint e queste cose qui, ecco si collega secondo me perfettamente. E diciamo a supporto di quello che ti sto dicendo ti faccio vedere anche su Google Trend proprio l'andamento della nicchia per dire hobby, che come vedi è una nicchia, è un grafico insomma molto molto buono, nel senso che da sempre in crescita, dal 2010 con delle crescite, fino a toccare il massimo proprio a novembre 2020, quindi qualche mese fa. Ora lasciamo stare il fatto che sta calando, perché comunque dobbiamo sempre riportare lo stato attuale, sia un discorso che comunque Google Trend ci dà un esempio solo delle ricerche su Google di quella parola chiave. Quindi ovviamente non ci può dire se quel prodotto specifico può essere vendibile oppure no, però comunque se paragoniamo gennaio 2021, che ha un livello di 76 ai mesi precedenti, vediamo che praticamente è uno dei dati più alti che ha avuto solo da nel 2019 e poi nel 2018. Dopodiché in tutti gli anni precedenti ha avuto sempre dei termini di ricerca molto più bassi o sempre a livello attuale, quindi questo significa che il minimo degli ultimi anni rappresenta in realtà il massimo riferito a tutti gli anni precedenti. Questo solo per quanto riguarda hobby. Poi abbiamo Do It Yourself, che anche questo va paragonato comunque a tutto il periodo precedente, infatti dal 2011-2012 è stato sempre in crescita e più o meno diciamo che un livello massimo potrebbe essere questo 50-60, che è appunto attualmente. Passiamo anche a Painting, che Painting questo è sempre stato su un livello più o meno stabile, ma comunque se notiamo qui dopo il picco che ha subito è comunque a un livello buono di ricerca. E per finire andiamo su qualcosa di molto più specifico su questo prodotto, che è Marker Set, quindi un set appunto di pennarelli. E come vediamo il dato attuale, quindi di gennaio 2021, ha un valore medio, diciamo così. Nuovamente prendiamo quel valore, che appunto andiamo comunque a valutare anche con i valori precedenti, che in questo caso sono molto alti, e li andiamo a paragonare su quelli precedenti. Quindi come vediamo, qui abbiamo un valore di gennaio che è sui 56, su quelli precedenti, su tutti gli anni precedenti, come vedi oltre a un picco sempre di dicembre, per quanto riguarda regali, immagino, è sempre stato a livelli abbastanza bassi, comunque sul 40-30-40. Il fatto che ora sia molto più alto indica comunque una crescita rispetto agli anni precedenti. Qui ci ho perso un paio di minuti in più solo per farti capire bene come andare a leggere Google Trend, che nonostante non sia uno di quei tool per dire, ok, questo è un prodotto vincente, ci aiuta ad avere un'idea generale della nicchia. Però tornando al nostro prodotto, che abbiamo detto essere questo set, qui ti faccio vedere uno store di un competitor. La cosa che mi ha colpito, diciamo la cosa intelligente che hanno fatto loro, lasciando stare lo stock left, che è una cosa che andrei ad evitare ad oggi, è il fatto di offrire comunque questi set, quindi acquista più set e questo possiamo utilizzarlo per regalarlo a qualcuno oppure semplicemente per avere più pennarelli. E quindi ci sono degli sconti, degli sconti per quantità, che è una cosa molto utile da fare. Il set qua si divide anche su 8 pezzi, quindi 8-12 pezzi. Il prezzo di vendita qui è di 25-26 dollari, diciamo, e l'acquisto del set da 12 pezzi qui è 9 dollari con la spedizione gratuita. Ovviamente un'altra cosa che vi dico, quando io vi faccio vedere questi link di Aliexpress sono più che altro per comodità. Tenete sempre a mente che ovviamente ci sono soluzioni migliori, come gli agenti, come CJ Dropshipping. Se non sapete di cosa si tratta, vi lascio un video che trovate sul mio canale, dove potrete approfondirlo. Oltre a tutto questo, comunque anche nella descrizione, ecco, ci sono un sacco di contenuti, perché comunque ci sono tante GIF, tante immagini, che è una cosa importante sapere quando facciamo la ricerca. Quando vediamo uno store, vediamo dei video, dei contenuti con poche foto, poche GIF, e quindi abbiamo già fatica a partire a creare il nostro store, può essere un contro. Questo non è il caso, perché come vedi la pagina di vendita di questo competitor ci sono veramente tanti contenuti. Qua sotto abbiamo anche alcune recensioni che potrai eventualmente usare come spunto sul tuo store, però ecco questo, nonostante sembri così da zero un prodotto troppo semplice, non lo è e anzi possiamo comunicare molto molto bene i suoi pro. Come ultimo dato per questo prodotto ti faccio vedere anche l'Ads Library, quindi delle sponsorizzate che questo determinato store ha attive ad oggi. Quindi da qui possiamo andare a prendere spunto da quelli che sono i copy che sta utilizzando e anche i video creative con i quali appunto questo store sta sponsorizzando. Ed è una cosa super utile perché anche così hai appunto subito il feedback su cosa sta vendendo, come lo sta facendo, qual è il prezzo, qual è il video, quindi hai tutto praticamente per poter dire ok questo store sicuramente sta vendendo e questo prodotto è sicuramente un winner. Il secondo prodotto che andiamo a vedere ora è un cuscino che probabilmente hai già visto da qualche parte, ma da quello che sono riuscito a trovare sembra essere non tanto in un trend, ma se non altro ha molta attenzione questo store che ti andrò a far vedere. Se non lo conosci e la prima volta che lo vedi questo cuscino praticamente permette a le madri o a chiunque in realtà, anche se nasce principalmente come risoluzione di un problema per le madri incinta, e permette appunto di riposare, di stare sul letto comunque con... in modo comodo diciamo. Il prezzo del prodotto se lo prendiamo da Cina e nuovamente qui sempre discorso Aliexpress, quindi magari guardiamolo su altre piattaforme, comunque ha un costo di 10 dollari con una spedizione di 2. E il discorso qui qual è? È che se noi andiamo a dover vendere questo prodotto andiamo sempre di base a calcolare un per 3, se possibile, oppure avere almeno 15-20 dollari come profitto. Quindi questo io ce lo vedo comunque venderlo bene a 30 dollari, il che significa che ci lascia almeno un 17-18 dollari come profitto, che comunque è molto buono. Ovviamente qui il pro della nicchia non è neanche da rispecificare, nel senso che baby care, madri, ci sono sempre, ci sono da sempre, ci saranno sempre, e quindi ovviamente ci sarà sempre attenzione e sempre necessità di questo prodotto. È un prodotto che se ci pensi chiunque in realtà può acquistare, anche con una campagna abroad, perché chiunque molto probabilmente ha qualche amico o in alcune fasi della propria vita a un amico o un'amica che stanno per avere un figlio e dunque andare a regalarlo può essere una cosa molto intelligente. Ora non so se in giro per i negozi sia un prodotto già arrivato, non credo perché comunque sì, si è visto in passato ma non così tanto, e quindi potrebbe essere un prodotto che anche riceverlo può avere un effetto wow molto molto grande, oltre ovviamente alla risoluzione di un problema, del problema appunto di riposare, che è qualcosa di ancor più immediato e ancor più potente. Qui ti faccio vedere subito anche lo store, una cosa che vado a notare è il prezzo, quindi ora non so se appunto questo cuscino che sto vedendo qui forse è un po' più grande, sicuramente sì, cioè rispetto a questa foto sembra sicuramente più grande, quindi il prezzo potrebbe essere giustificato, non lo so. Il discorso è che anche qua andiamo a trovare alcuni contenuti interessanti, soprattutto la cosa che mi piace, che volevo farti vedere è questo, cioè questa foto non mi fa impazzire per quanto riguarda i testi che vedi qua sopra, perché le cercherei di andare a fare molto pulite, ma capito andare ad elaborare la foto mettendo appunto questi box, lo crea, non lo so, li dà un effetto molto più professionale, sicuramente molto diverso da invece una foto come questa, che è qualcosa che eviterei, perché è una foto con troppi testi, troppo editata, troppo finta, dove darei invece priorità a una foto del genere, nuovamente senza questo testo qua sotto. E anche per questo store ti faccio vedere l'Ads Library di appunto della loro pagina Facebook, quindi quali sponsorizzate stanno, hanno attive tuttora, e in effetti anche qui ce ne sono di diverse. Il video, quello principale, sembra essere diciamo una, o se non altro la thumbnail, quindi la copertina è una, quando invece poi andiamo a vedere anche delle altre creative, fatte con un'immagine pulita di questo tipo, un'altra immagine con dei testi sopra, e poi abbiamo un'altra foto con questa recensione, e un altro video un po' più lungo. Quindi molto interessante andare a fare questo tipo di ricerca, proprio per capire anche come va a strutturare le Ads, nel senso che qui abbiamo un test di diverse creative, sia immagini che video, con appunto diverse modalità, quindi una ha un video fatto in un certo modo, l'altra una foto fissa, e poi abbiamo anche una foto, questa qua molto bella, con appunto la recensione di una potenziale cliente, non so quanto vera, però comunque tutte cose che puoi andare a testare, puoi andare a prendere spunto e riproporre quindi sul tuo store. Qui ho fatto giusto per scrupolo, cioè per curiosità una ricerca, non pensavo di trovare effettivamente un grafico del genere, ma se vedi pregnancy pillow, quindi proprio cuscini per la maternità, per donne incinta, vediamo che ha una crescita, un grafico direi perfetto, nel senso quello che vogliamo vedere noi non è una picco nel 2021, per forza per dire ok è un prodotto vincente, quello sicuramente può aiutare, ma più che altro può aiutare a dire ok è successo qualcosa, per cui oggi tutti lo stanno ricercando. In realtà se vai a vederlo, comunque di nuovo dal 2012-2013, c'è una crescita costante, che sta dando dei numeri comunque stabili ormai, su dei termini di ricerca, o un volume di ricerca medio alto, e quindi diventa ovviamente un prodotto super interessante, che puoi andare a sfruttare. Non tanto per forza questo, magari non ti piace, ma quanto più la nicchia, o appunto la parola chiave di ricerca pregnancy pillow. Anche qui nuovamente quello che puoi fare è strutturare uno store, non per forza su baby care, o su donne incinta, ma magari proprio solo ed esclusivamente su cuscini, per andare a facilitare questo momento appunto nella vita delle madri. Un'altra nicchia che sta avendo adesso dei numeri buoni, dei numeri interessanti per quanto riguarda il grafico del Google Trend, è la nicchia baking, ossia pasticceria, alla quale appunto mi vado a collegare con un prodotto che ho trovato, che è questo. Praticamente sono delle formine per fare delle lettere, le lettere dell'alfabeto, da andare a riportare poi su delle torte, su dei pasticcini. È un prodotto che ti faccio vedere anche qui, nuovamente su Aliexpress, che ho trovato con pochi ordini, poi sicuramente facendo un po' più di ricerca su Aliexpress, comparo le chiave diverse, andrai a trovarne con un po' più di movimento, questo è chiaro, ma già qui di partenza vediamo che comunque ha dei numeri abbastanza bassi. Il costo anche qui è ottimo, perché comunque ci costa 9 dollari l'alfabeto completo, oppure solamente il set di numeri ci costa 5 dollari, quindi comunque siamo al di sotto di quei 12 dollari che io consiglio come prezzo diciamo massimo, come costo massimo di un determinato prodotto, quindi anche da qua siamo messi molto bene. Lo store anche qua un sacco di contenuti, una cosa che ti consiglierei di fare, siccome te lo dicevo già prima, sono le foto. Qui c'è molto per quanto riguarda le gif, per quanto riguarda le immagini, però comunque capito andare a prendere questa foto e riportarla su tuo store non va bene, perché se noi ci fermiamo un attimo, ci soffermiamo a guardare questo store, è tutto quello che sconsiglio di fare, perché non abbiamo un'identità. Il discorso di branding, di posizionamento, qui si va totalmente a perdere, abbiamo un logo sconnesso da quello che vendiamo, abbiamo una pagina troppo passiva, perché non vedo alcun colore, i tasti sono fatti bianco, nero, quindi colori troppo passivi, tutto il resto dello store, anche i font, i caratteri, sono tutti caratteri base di questo tema, che dovrebbe essere Brooklyn. E poi finiamo, alla fine qua ci sono delle recensioni, 14, quindi sono anche poche, però comunque potrebbe andare bene. Quindi quello che volevo comunicare con questo discorso sullo store, con questo soffermarmi un attimo sulle immagini e sulla struttura, è proprio il discorso di competizione, cioè se tu ad oggi cerchi di vendere questo prodotto, questa è la competizione o una delle competizioni maggiori che ti ritrovi. Capisci che quando vai a strutturare uno store con un approccio invece diverso, quindi con il discorso di branded dropshipping, che è una cosa che cerco di spiegare il più possibile, allora ovviamente ti vai a staccare da tutta la competizione che c'è attualmente, perché quella competizione è fatta da persone che vedono questo store, questo business e non altro, creano uno store troppo passivo e non fanno vendite. Quindi quando tu vai a creare uno store ad hoc su pasticceria, con questo prodotto, con tutti i colori fatti bene e un discorso di branding ad hoc, allora ti vai veramente a portare a un livello estremamente più alto del 90% degli altri dropshipper e dunque riuscirai tranquillamente ad ingranare come si deve e a fare vendite. Qua invece andiamo a vedere il video proprio utilizzato che appunto vediamo che riporta comunque attorno il, appunto questo bianco, che se noti lo andiamo a ritrovare anche qui. Quindi penso abbia estrapolato degli spezzoni e ci abbia fatto delle gif, ma un'altra cosa importante che voglio farti vedere sono le interazioni. Infatti come vedi qui ci sono 1700 like, 400 commenti. La cosa principale sul discorso dei like è come sono stati fatti. Cioè quando noi vediamo i like, che in questo caso sono 1800, abbiamo subito un feedback che è dato da queste interazioni. Nel momento in cui magari questo video viene sponsorizzato male oppure il prodotto effettivamente non interessa, non è valido, quello che vedrai qua in anticipo da subito sarà non più l'icona del cuore, ma magari l'icona della faccina arrabbiata e l'icona di quello che ride. Ci danno due espressioni veramente molto diverse e questo è un dato super super importante per poi quello che troverai anche nei commenti e sono praticamente questi degli indicatori del sentiment di appunto le persone targetizzate o le persone che appunto potenzialmente sono in target al nostro prodotto di quello che ne pensano, che pensano esattamente del prodotto. Quando abbiamo quindi un feedback di questo tipo sappiamo che il prodotto può essere veramente interessante e può funzionare bene anche come feedback, come social proof per il nostro target. Quando invece vedi uno store che comunque ha due, tre, cinquecento like, mille, duemila, ma la maggior parte sono risate e persone arrabbiate, allora sicuramente nei commenti ci saranno magari dei commenti negativi oppure una comunicazione errata da quelli che sono appunto le persone che lasciano i commenti. Insomma questo per farti capire che capisci da subito anche con questo feedback quanto quel prodotto piace e piace vederlo su Facebook alle altre persone. Un prodotto abbastanza simile che ti faccio vedere è questo della nicchia appunto sempre cucina e è praticamente un prodotto per andare a preparare le uova in diverse modalità. Qui magari lo capisci da poco adesso ti faccio vedere lo store un'altra cosa nuovamente è il pricing quindi qui siamo su un prezzo perfetto 8 più 2 fa 10 e dunque un prezzo a cui potremmo o dovremmo rivenderlo per diciamo starci con dei numeri sensati è diciamo 25 barra 30 qui infatti troviamo il nostro competitor che lo vende a 20 euro dunque circa in dollari siamo sui 25 quindi in linea a quello che ti dicevo nuovamente anche sui contenuti come andiamo a vederlo ce ne sono un sacco sulle foto ci sarebbe un attimo un lavoro da fare perché ripeto queste sono delle foto secondo me troppo troppo capito confusionali piene di testi piene di editing e nuovamente ti voglio far capire di nuovo quello che vedevamo prima è la copia è come se hanno preso lo store l'hanno copiato incollato su quest'altro vedi che il tema è lo stesso i font sono gli stessi quindi va bene per testare va bene questo store può fare le vendite che probabilmente ha fatto ma non potremo mai costruire un brand solido e scalare a medio-lungo termine con un setup di questo genere qui per pura curiosità sono andato a cercare Egg Boiler quindi più o meno questa nicchia questo prodotto su Google Trend ma nonostante qui non ci dia dei numeri eccezionali quindi un grafico abbastanza incasinato se noi in realtà andiamo a vedere sugli ultimi 12 mesi dell'anno quindi nel diciamo 2020 in sostanza ecco vediamo che proprio ad oggi quindi tra il 31 gennaio e il 6 febbraio Egg Boiler ha un picco estremo questo vuol dire semplicemente che probabilmente ad oggi c'è un tipo di necessità su questo prodotto o magari ripeto può essere anche uscita una notizia che porta un interesse specifico su Egg Boiler magari è uscito uno studio che l'uovo in questo momento fa bene non lo so però sicuramente c'è un picco questo ci dà ci aiuta a sfruttare ovviamente nel mese di febbraio questo prodotto ma soprattutto quando c'è questo picco ovviamente non è una cosa che nasce in quel momento e muore come può essere i fidget spinner faccio sempre questo esempio ma è comunque una cosa che quando lì ha l'interesse questo interesse va a diciamo dilungarsi sui mesi successivi per questo ad oggi potrebbe essere un prodotto un interesse appunto importante anche qui ti faccio vedere l'ads library di facebook di questo store che è uno store generale perché comunque l'obiettivo dello store generale è quello di avere tanti prodotti testarne di diversi capire quale funziona meglio e poi andarsi appunto a concentrare su di esso infatti come vediamo questo store sponsorizza anche queste cover fino ad arrivare poi al nostro prodotto ecco come vedi anche qua ci sono un sacco di creative diverse da cui possiamo prendere spunto dal copy e dal video nuovamente la nicchia ovviamente si ricollega a kitchen ovviamente niente da dire sulla nicchia kitchen che è un'altra delle top del dropshipping e nuovamente cerchiamo di andare a sfruttare sempre questo discorso di sottonicchia perché va bene fare la nicchia kitchen sfrutti il tuo prodotto e poi vai ad ampliare lo store con altri 10 20 100 prodotti ma se invece noi andiamo un po' più nello specifico e andiamo a prendere la sottonicchia egg quindi preparazione dell'uovo tutto ciò che ha a che fare con le uova allora qui nasce un'altra sottonicchia super super isolata poco competitiva con tanti prodotti perché comunque su Aliexpress sono sicuro che di prodotti per preparazione delle uova ce ne sono e in questo modo il discorso è che andiamo diciamo a prepararci a trovare una fetta di mercato intoccata che possiamo andare a sfruttare come si deve e quando facciamo questo discorso se prepariamo uno store nicchia kitchen questo si va un po' a perdere poi su tutte le varie collezioni ma nel momento in cui utilizziamo un prodotto come questi e ci concentriamo quindi sulla nicchia delle uova riusciamo a ritagliarci facilmente direi anche una posizione da professionisti se vogliamo o comunque da esperti sul settore preparazione uova e questo diventa molto più facile poi quindi nella creazione di quello che è il nostro brand o nel nostro social proof all'interno dei social come ultimo prodotto quello che ti voglio mostrare è una nicchia che se sei nel mio corso o per i miei studenti insomma sanno che cito abbastanza spesso che è la nicchia fishing perché è un esempio secondo me perfetto di una nicchia poco competitiva ma che ha ovviamente un interesse altissimo e sulla quale si può collaborare in modi diversissimi da youtubers da influencer su instagram anche pagine che comunque ce ne sono e sono poco competitive oltre che ovviamente su facebook ads quindi questo prodotto che ti faccio vedere magari lo conosci già perché comunque è andato nel passato un po' poi c'è stato ovviamente un ignorarlo perché alla fine quando escono questi prodotti funzionano per relativamente poco tempo ma continuano ad andare costantemente all'interno di quella nicchia cioè nella nicchia fishing la gente ovviamente lo conosce o comunque sa che è una necessità ed è un prodotto che effettivamente risolve un grosso problema mentre poi ovviamente non è un prodotto come kitchen che alla fine lo si può testare su un discorso broad e tutti teoricamente potrebbero acquistarlo quindi questo prodotto praticamente il pro è quello che puoi settare la canna da pesca e la lasci la lasci lì essendo che altrimenti tu devi stare fermo seduto e tenerla in mano tutto il tempo in questo modo quindi vai a risolvere un grosso problema se qualcuno di voi pesca sicuramente sa che è un problema esistente il prezzo nuovamente siamo su un livello perfetto 12 più 1 dollaro e 60 diciamo che arriviamo a 13 dollari come costo la vendita su questo competitor da cui l'ho trovato è di 30 dollari quindi abbiamo comunque un margine un margine buono per poterlo gestire per i contenuti non c'è alcun tipo di problema anche qui ci sono già delle belle gif senza copyright che quindi possiamo andare a prendere anche questo store è uno store generale e questo lo capiamo semplicemente dai prodotti che ci sono qua sotto infatti abbiamo cucina abbiamo questo per le luci per esterni e nuovamente abbiamo un feedback immediato su qual è il nostro competitor quando ci fermiamo e guardiamo questo store io vedo uno store fatto oggettivamente male anche perché questo garantì safe checkout è il form cioè è l'immagine praticamente che usavo io tre anni fa quattro anni fa quando facevo i primi test questo per dire che devi avere sempre in mente anche contro chi ti vai a mettere perché se trovi invece un altro store fatto già molto molto bene un store con il livello branding il lato dello store gestito correttamente allora lì potresti dire ok magari non lo vado a vendere perché comunque so che ho contro qualcuno che sta facendo un ottimo lavoro mentre nel nostro caso quando trovi uno store di questo tipo che comunque sta facendo bei numeri come adesso ti faccio vedere il video qua su su facebook allora in questo caso puoi dire ok ho contro qualcuno che lo sta vendendo in modo profittevole e va bene ma posso fare molto meglio di questo store e dunque so che le persone quando vedranno il mio store saranno molto molto più portate alla vendita rispetto a uno store fatto così male dove molte persone invece diranno ok è pessimo e quindi non vado ad acquistare questa appunto è la sponsorizzata che ti faccio vedere come esempio vediamo l'originale possiamo prendere spunto di nuovo dal copy anche se qui non è eccezionale ma soprattutto dal video dal video perché una cosa ottima di questo video è che non ha al di sopra i testi quindi potremmo scaricarlo non ovviamente fare copia in colla prendere nuove gif andare a mischiarle in modo da fare un video totalmente diverso e andare ad aggiungere anche i testi sopra di esso però ecco quando troviamo un video del genere lasciamo stare ovviamente alcune clip sappiamo che abbiamo molti contenuti video da questi contenuti possiamo creare le gif che comunque troviamo già sullo store del nostro competitor e andare a riproporle su un video totalmente diverso la nicchia phishing ripeto ha tantissimi anche influencer per dire su youtube non so se su twitch mi è venuto in mente così al volo magari c'è qualcuno che fa streaming di pesca non lo so sicuramente se ci sono saranno estremamente poco competitivi a livello di collaborazioni e quindi c'è molto che possiamo andare a studiarci per fare appunto delle sponsorizzate utilizzando anche degli influencer senza magari passare da facebook che magari è fuori da quello che è il tuo budget quindi questo era il quinto prodotto che ti mostro in questo video quindi per questo video era tutto io spero che ti sia piaciuto che hai apprezzato il fatto che ti ho portato un po' più di dati appunto per giustificare il fatto che reputo questi veramente dei prodotti con un estremo potenziale cosa che alla fine credo di averti mostrato abbastanza quindi se il video ti è piaciuto e se vuoi degli altri video strutturati in questo modo ti invito a lasciarmi un mi piace a iscriverti al canale mi raccomando di controllare qua sotto in descrizione che trovi Dropshipping Keys 2.0 che è il mio corso completo per partire dalle basi alle fasi avanzate con il tuo store dropshipping quindi lo trovi qua sotto spero nuovamente che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima